Sindaco, eccoci qua, buon inizio settimana, a lei e ovviamente a tutti coloro che ci ascoltano e devo dire aumentano fortunatamente sempre di più sia sul canale Youtube, sia sul canale Facebook che ovviamente sul sito ufficiale del Comune di Lotta di Monte dove questo video viene ovviamente pubblicato. E così devo dire di cominciare subito con una comunicazione importante perché non è la prima volta che lo sottolineiamo, non è la prima volta che accade, purtroppo c'è una devianza sociale che continua a essere critica un po' in tutto il territorio, non solo ovviamente nella nostra città per fortuna, però il fatto che le giostrine in due piazze diverse, piazza Autonomo e piazza Don Pompeo Labamba, siano state di nuovo rovinate, rotte dopo essere state aggiustate nel giro di pochi giorni prima, credo che sia il momento di dire basta, lei lo ha detto chiaramente in un intervento, in un comunicato in questo fine settimana. Sì, buon giorno, bentornati a tutti a questo usuale appuntamento, purtroppo dobbiamo ancora una volta rilevare questa vandalizzazione, non pochi giorni prima, il giorno prima erano state, vi messi a posto le giostrine a piazza Aldomoro nel progetto di la rotta Unaiola e qui a piazza Zanardelli, piazza Don Pompeo Labamba appena il giorno prima. È chiaro che diciamo, noi siamo, non so che dire, il termine giusto sarebbe schifato, perché, ma questa volta abbiamo delle indicazioni ben precise che adesso spasseranno al vaglio dei vigili e dei carabinieri perché effettivamente non è più possibile andare avanti. Io non capisco, non giustifico, sì, si sono stati in vita, perfetto, quindi io non capisco, non giustifico in nessun modo questi atti che poi sono diretti, non lo so, contro i bambini che vanno a giocare, quindi mi sembra assurdo, lo dico come è necessario, che si debba mettere una telecamera ogni 50 metri o bisogna arrivare a misure depressive per poter avere un po' di civiltà, penso che sì, assolutamente vergognoso. Capisco che questo non è un problema che si sta sulla Rocca Veo, ma questo a me poco importa, queste situazioni non si devono assolutamente ripetere, perché sono una vergogna per il paese, non sono un motivo di vanto, perché mi sembra quasi che questo venga preso come un motivo di vanto, le giustizioni sono state appena riparate, andiamolo a rompere e così ci divertiamo un po', non esiste nessun modo. Eh no, assolutamente, sì, l'ho detto questo, quindi con i responsabili che non la passeranno liscia rispetto a quelle che sono le indagini che si stanno portando avanti, le voglio chiedere però un'altra cosa importante, tutto l'aspetto ambientale si sta facendo tanto, c'è stato oggi un altro appuntamento per la pulizia dei canali, per esempio sul territorio, c'è stato un importante intervento legato alla rimozione di amianto che continua, non solo per quanto riguarda la parte pubblica, con un progetto che già aveva iniziato da tempo, ma anche sugli edifici privati. Sì, effettivamente con l'aiuto del Consorzio di Bonifiche, chiaramente, stanno procedendo alla pulizia di tutti i canali di Rocca Veo, attualmente si trovano a livello della vaschetta che sta via, diciamo, maldi sopra di Casale, provvederanno poi alla pulizia anche del collettore di Casale, la pulizia del canale che si trova dietro Villa Silvia e degli altri canali, sia di quello di Via Ponte, Via Filomena Caldieri e Via Savasta, e quindi tutti i canali che sono necessari a pulire, almeno per prepararci a questo inverno che non sappiamo, piovoso o meno, ma soprattutto perché quella, una caratteristica delle ultime precipitazioni, è quello che arriva a bomba d'acqua e quindi noi andiamo in grande rifiutura, oltre i sopralluoghi che sono stati fatti anche dalla Cori, insieme a noi, per sistemare l'annoso problema degli allagamenti via Roma, diciamo, e via Roma e via Savasta. E poi a proposito dell'amianto che mi hai richiesti, in effetti non c'è stato nessun problema, ma diciamo essere un po' strumentalmente avanzato, perché i nuovi acquirenti di questo stabile a Via San Rocco avevano già provveduto a mettere in atto tutte le situazioni burocratiche necessarie per rimuovere l'amianto, quindi c'è bisogno di una serie di autorizzazioni, il tutto resta seguendo la Multieco Solution di Viaggio del Giudice, quindi in effetti credo che tutte le autorizzazioni siano a breve arrivate, quindi i tempi tecnici che possono essere di 10 giorni, 15 giorni, sarà rimossa. Infatti come giustamente poi tu dicevi, noi abbiamo fatto già qualche anno fa uno screening di tutto l'amianto del territorio, quello di proprietà comunale lo abbiamo già eliminato, volevo ancora precisare, siccome più volte è stato richiesto per l'amianto che ha il mercato, non è amianto, ma è fibrocemento ecologico, quindi non ci sono problemi, e quindi anche questo. Ma questo però sempre nell'ambito che senza polemico, volevo solo dire che la prossima settimana, i prossimi giorni pubblicherò quelle che sono le idee progettuali di imprenditori che vogliono investire a Rocca Piemonte, che ancora non ci riescono per questi continui ricorsi e contro ricorsi al PUC, era solo per far capire che cosa significherebbe per Rocca Piemonte dal punto di vista occupazionale, non solo questi investimenti, lo ripeto, è solo una nota informativa. Certo, perché con il PUC che lei ha ideato nelle varie zone ci sono già tante possibilità di investimenti produttivi legati proprio anche a posti occupazionali per vari settori. Detto questo sindaco, direi di passare anche agli appuntamenti che ci saranno e che ci sono stati per quanto riguarda la parte sanitaria. Stamattina al Comune con il dottore Barba, responsabile infermieristico di distretto 60 di vocello inferiore dell'ASL e insieme alla sua equipe ci sono state una distribuzione dei primi kit per lo screening del colometto, poi ci sarà il ritiro mercoledì, ma già ci sono due appuntamenti a novembre per tutti i cittadini che vogliono sottoporsi a questo test che è semplicissimo, per cui si può effettuare davvero un pochissimo tempo. Sì, questa è un'altra, diciamo, situazione, un'altra situazione di screening che rientra un po' in quello che Rocca Piemonte sta facendo per vari ambiti, in questo caso con in collaborazione con l'ASL di distretto 60 dell'ASL Sarevo effettuiamo questo screening del colometto che è semplicissimo, si tratta di cercare il sangue occulto nelle feci che può essere il primo segnale di un cancro del colometto. Come in tutte le forme tumorali, ormai diciamo quasi tutte, è la prevenzione che ci può portare alla soluzione, senza prevenzione e quindi lasciando che queste forme vadano eccessivamente avanti, diventa anche molto complicata la soluzione. Poiché oggi con terapia chirurgica e medica una maggior parte delle forme tumorali sono fortunatamente guaribili e quindi questi screening sono proprio fondamentali, come il tumore del colometto, il cancro del colometto, ha un'incidenza altissima dopo i 50 anni, quindi si consiglia a tutti quelli che hanno più di 50 anni di fare questo semplicissimo esame. La forbice è 50 anni e 74 anni, non bisogna che ci sia stato un test effettuato negli ultimi due anni, bisogna che siano passati già due anni dall'ultimo test e dall'8 o meglio l'8 novembre e poi il 22 novembre ci saranno due nuovi appuntamenti presso la sola aggiunta del comune di Rocca, Piemonte. Ripeto, semplicissimo, un kit che viene dato ai cittadini interessati, bisogna restituirlo dopo qualche giorno e poi si ottene il risultato. Sì, ma a proposito di, in conclusione non sono sempre qualche notizio un po' più frivola, chiamiamola così, appuntamenti ci sono stati anche quelli divertenti di autunno, in particolare il chef allo sbaraglio, la GR20 che ha organizzato al Palazzo Nazionale questo fine settimana, la sua pasta e patate ha avuto successo da quello che abbiamo saputo, ma non ha vinto, quindi cosa significa? Significa, diciamo, ci siamo divertiti veramente, perché a parte tutto c'è stata una partecipazione inattesa, infatti gli alimenti sono anche finiti prima del tempo, sono stati sei primi piatti, tutti eccezionali, ovviamente il migliore è stata passata e parata con la provola, pur non avendo vinto, vuol dire che la prossima volta già questi che hanno vinto li elimineremo, perché si sono permessi di vincere al posto del sindaco, ma è stata veramente una bella esperienza, al di là anche delle mie attese, perché era una cosa nuova, ma anche la partecipazione dei cuochi, la preparazione dei primi piatti e il gusto di questi primi piatti è stata veramente eccezionale, visto che è stata, ripeto, gradita, perché sia la prima sera che la seconda sera sono venute tantissime persone. Tra l'altro il GR20 dice ci sarà il chef allo sbaraglio 2, sicuramente, la possibilità magari di andare verso primavera con alimenti un po' più freschi e ricette diverse, sicuramente, quindi signora, quelle si dovranno fare? Sicuramente, ma visto il successo di questa, è giusto che sia ripetuto, quando ci sono eventi, ultimo alla festa della pizza, che è stato un altro evento di grande, grandissimo successo e d'impatto, o l'evento dei rapper, quindi è giusto che questi eventi vengano ripetuti e dipendono quasi un punto firmo nel calendario degli eventi di Rocca Piemonte. Grazie, buon lavoro, Grazie sempre a te, Grazie per tutto. Grazie a tutti.